In Media Plaza con Daniela Monero, responsabile marketing Pastiglie Leone. Innanzitutto parliamo della vostra azienda, è un prodotto d'eccellenza, andiamo sui prodotti dolciari, così ci racconti? Sì, sì. Allora, Pastiglie Leone è un'azienda che è stata fondata nel 1857, radicata quindi nel territorio da quasi 160 anni e abbiamo tantissimi prodotti che variano dalle più famose pastiglie che chiaramente sono il nostro core business fino alle gommose, alle caramelle e anche al cioccolato. Quindi siamo proprio dei grandi principi di tutto ciò che è il mondo della confetteria tipico proprio del nostro territorio. Come stanno andando le cose? Come sta vedendo anche questa vita, questo fermento che c'è qui all'ingotto? Sono molto felice innanzitutto perché contenta che la nostra città abbia potuto aspettare un evento internazionale così importante peraltro proiettato in maniera concreta, che è anche quello che ci interessa, verso il commercio e quindi questo è assolutamente importante in un momento dove è prioritario, penso, per qualsiasi azienda e tanto più per un'azienda come la mia che produce degli articoli così particolari e rappresentativi verso l'internazionalizzazione. Perché hai deciso di essere parte di questo congresso e di supportarlo? Sì, prima di tutto siamo in ABT, il nome è Exitville Brands Torino e ci sono alcune società, le più rappresentanti del nostro territorio, nella zona del luxorio area e quindi abbiamo deciso di essere sponso di questo evento perché è molto importante per noi di concentrare sull'exporto e quindi penso che il congresso è una buona idea di promuovere tutte le nostre compagnie. Perchè? 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 Perchè in Turin ci sono molte compagnie, ovviamente le compagnie di ABT, ma è davvero importante, è una città di fabbrica. la stessa città, abbiamo l'opportunità del business, io ho provato. Thank you very much, grazie e buon proseguimento di affari e di incontri, lei ha detto concreti, quindi qua si fanno le cose su serio. L'importante è proprio quello perché poi in definitiva è importante creare dei legami che poi possano portare concretezza e business reale futuro perché altrimenti chiaramente non ne varrebbe più di tanto la pena, però in un evento come questo penso sia assolutamente fattibile. Grazie, grazie alla pastiglia Leone e buon proseguimento.